Si chiama cybercondria, il neologismo derivato dall'unione delle parole di cyber e ipocondria, che si riferisce alle infondate preoccupazioni di un paziente derivanti da ricerche su internet verso sintomatologie comuni. La cybercondria è una preoccupazione crescente tra gli operatori sanitari, in quanto i pazienti possono ora ricercare qualsiasi malattia e tutti i sintomi ad essa associabili, consultando la rete internet. Questo può addirittura portare il paziente a manifestare in un stato di ansia medica e di ostacolare la diagnosi del medico esagerando o riducendo i propri sintomi. Un argomento sul quale anche le aziende sanitarie si stanno interrogando, cercando di essere sempre più presenti nella rete con informazioni, in questo caso ufficiali, ma soprattutto sicure. Per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi, l'accessibilità, allora la televisione, il passaparola sono i canali importanti. A questi si aggiunge però anche internet in due forme. Uno come siti dei servizi sanitari e direi una sede propria. L'altro proprio internet come strumento di conoscenza. L'area vasta della Sud-Est ancora usa meno rispetto al resto della regione i social network. In realtà è un terreno da presidiare perché, come diceva, le persone si rivolgono attraverso questo strumento e quindi è importante che non ci sia il rischio di avere disinformazione.